Buongiorno ragazzi, buona domenica a tutti. Ieri sera mi avete massacrato di scontrini, fino a mezzanotte continuavano ad arrivare scontrini vincenti. Sono felice per voi e sono felice di aver creato due metodi da sbanco. I due metodi in questione sono la simmetria vincente e verti diametrale, due fantastici metodi basati sulla ciclometria. Cosa dirvi di più? Tanti di voi mi hanno scritto quanto costa il metodo sommatria vincente, quanto costa il verti diametrale. Ragazzi, purtroppo mi dispiace, ma per non far finire questi due metodi in mano a dei cialtroni, ho deciso di tenerli per me e di dare le previsioni solo nel gruppo abbonati. Quindi chi è interessato alle mie previsioni non deve fare altro che entrare nel gruppo abbonato e riceverà sia le previsioni del metodo simmetria vincente, sia le previsioni di verti diametrale. Due fantastici metodi, ripeto, basati sulla ciclometria. Chi ormai conosce o mastica un po' di ciclometria sa benissimo le nozioni fondamentali della ciclometria, che sono le distanze, le somme e i punti medi. Per elaborare delle previsioni dobbiamo immaginare in un cerchio i 90 numeri disposti dal 90. Come vedete nella figura ci sono i 90 numeri. 91 e in base alle varie estrazioni possiamo elaborare delle fantastiche previsioni e dei fantastici metodi. Logicamente ci vuole un po' anche di fantasia, un po' di intuito, come ho fatto io ed ho trovato due metodi fantastici. Allora, in questo momento, ripeto, chi è interessato può entrare anche a far parte di simmetria vincente con pagamento a vincita ottenuta oppure può pagare una cifra irrisoria entrando in questo gruppo abbonati dove, come avete visto, in tre estrazioni ci sono state ben tre ambi secchi. Qual è la differenza? Qualcuno mi dirà qual è la differenza? Innanzitutto la differenza è il prezzo. Nel gruppo abbonati che pagate una quota irrisoria e nel gruppo a vincita ottenuta che la quota logicamente lievita un po', non è che io vi faccio entrare gratis, poi vi faccio pagare una cifra irrisoria anche chi non ha pagato. Perché la differenza tra questi due metodi è che uno mi danno fiducia, mi pagano una quota mensile irrisoria, ripeto, irrisoria, non stiamo parlando di cifre esagerate. Mentre dall'altra parte persone scettiche, diciamo, che vogliono provare cosa riesco a fare, logicamente a vincita ottenuta non pagheranno la cifra irrisoria degli abbonati che pagano una quota minima, restano nel mio gruppo abbonati per un mese, due mesi, dipende da quanti mesi vogliono abbonarsi e ricevono gli aggiornamenti ogni estrazione. Questa è la differenza. Mentre il gruppo a vincita ottenuta ricevono la previsione e stop per giocare per tot colpi. Ok? Non so se sono stato chiaro, però se volete ulteriori informazioni, basta contattarmi sempre al mio numero WhatsApp. Anzi, stamattina posso anche permettermi di rispondere al telefono se qualcuno vuole fare una chiacchierata con me al cellulare. Sono ben disponibile. Logicamente, ragazzi, mi dispiace a volte bloccare le persone, però i perditempo a me non piacciono. Ci sono state persone, mi dai dove pagare, mi dai questo, mi dai quello, poi non si sono fatti più sentire, poi si rifanno sentire, dopo tre estrazioni, vorrei, non vorrei. Ragazzi, io non sono qui a perdere tempo. Io sono qui che il mio tempo lo dedico allo studio dei numeri, diciamo così, sia sommativi, sia ciclometrici, sia spaziometrici. Quando trovo qualcosa di buono, io lo metto a disposizione dei miei abbonati. I risultati, ragazzi, si vedono e come se si vedono. E poi, vi ripeto, la mia ciclometria non fa vincere gli ambetti, perché chi fa vincere gli ambetti non è il giocatore che, diciamo, si arricchisce, ma chi dà questo tipo di previsione per far vincere gli ambetti, perché, come sapete, l'ambetto paga 60 volte la posta. Se io gioco, per dirvi, tre ambi secchi e devo giocare ambi e ambetto su due ruote, in poche parole, io giocherò 6 euro, almeno 6 euro, in 10 estrazioni, se io sono un giocatore con minimo budget di un euro e un euro, non stiamo parlando di persone che poi, che poi, se andiamo a vedere, quelli che puntano tanti su 10 euro sul lambetto, 20 euro sul lambetto, sono proprio quelli che vi danno i numeri, perché con i vostri soldini, ragazzi, i nostri soldini si possono permettere di puntare anche 20 euro sul lambetto, tanto se non esce, sono soldi che, diciamo, hanno ricavato dall'abbonamento. Mentre chi è un giocatore con budget minimo che si diverte, punterà sicuramente solo un euro sul lambetto e quindi saranno quei 60 euro, se riesce, nelle 10 estrazioni, a prendere l'ambetto, a aver recuperato solo le spese. Mentre chi vi ha venduto quel tipo di previsione si sarà ingrassato a spese vostre. Mentre con Rosario Gallo si gioca all'ambo secco, ciò che significa, se io do tre ambi secchi in 10 estrazioni, esce la decima estrazione, la previsione, avete speso 60 ma ne avete recuperato i 230. La differenza si vede, si sente anche nelle vostre tasche. Ragazzi, detto questo, chi è interessato ad entrare, ripeto, o nel mio gruppo privato, con quota mensile fissa, minima e irrisoria, oppure a vincita ottenuta. Ci sono due tipi di abbonamenti. Sono le stesse previsioni, lo ripeto. Logicamente il gruppo abbonati, quello lì, che paga la quota mensile, riceve gli aggiornamenti. Nel senso, per esempio, ieri sera c'è stata una condizione di simmetria vincente, dove abbiamo in gioco, un attimo che guardo, per non sbagliarmi, mi sembra, su un Napoli-Venezia, una terzina, eccola qua. Allora, abbiamo su un Napoli-Venezia una terzina simmetrica che è pronto a scoppiare, ok? E si gioca solo per sei colpi. Logicamente, chi è nel gruppo abbonati ha ricevuto anche questa terzina, che poi la può giocare in ambi secchi, perché io ripeto, simmetria vincente, mette in gioco una terzina simmetrica, ma va giocata per ambi secchi. Esempio, la terzina simmetrica, facciamo un esempio, 30-60-90, va anche per gli amanti del 90. Questo è un esempio, non è una previsione, lo ripeto. Allora, 30-60-90, per esempio, è una terzina simmetrica. Se c'è una condizione, per esempio, che questa terzina simmetrica dovrà uscire fra una delle dieci ruote dell'otto, anzi, sono undici ruote dell'otto, perché a volte succede anche che abbiamo la previsione sulla nazionale, io logicamente dico sempre ai miei clienti che la terzina va giocata in ambi secchi, quindi 30-60-30-90, 60-90. Spero, ripeto, di essere stato chiaro. Ok, poi come dal metodo verti diametra abbiamo una sola previsione che mette in gioco due ambi secchi. Gli abbonati, ripeto, riceveranno tutte le previsioni in gioco. Stiamo parlando in questo momento solo di due ambi secchi dal metodo verti diametrale e abbiamo invece delle previsioni, abbiamo la previsione che hanno anche quelli a vincere, ottenuta, e la nuova previsione che è quella su Napoli-Venezia da giocare, perse i colpi. E c'è una calda appena, appena una top entrata della simmetria vincente, però aspettiamo ancora qualche colpo e poi, caso mai, la daremo, perché non voglio dare troppe previsioni nel gruppo abbonati. Allora, ragazzi, andiamoci a divertire un po', perché, ripeto, ieri mi avete massacrato di scontrini. Quindi vi lascio a visionare un po' di scontrini. Poi chi è interessato ad entrare nel mio gruppo Whatsapp, sia quello a pagamento, sia quello a vincita ottenuta, mi contatta su Whatsapp. Gli do tutte le spiegazioni. Su vincita ottenuta mi riservo, diciamo, la facoltà di accettare oppure no la persona, perché se ci sono persone che ritengo poche sere, li blocco direttamente, perché, ripeto, ci sono state persone che ogni volta mi hanno... cioè, sono mesi che continuano a chiedermi come si fa a entrare, quanto si paga questo, quanto si fa quello, mi dai i tuoi dati, mi fai questo e poi non si fanno più sentire. Allora, i perdi tempo li lasciamo agli altri. A me i perdi tempo non mi interessano. Chi vuole veramente delle previsioni di grande affidabilità deve essere innanzitutto una persona seria e poi essere coerente con le sue idee. Non può andare da me, poi andare da un altro, poi andare a poi vedere che quell'altro è un giarlatano può ritornare da me. Ragazzi, questi qua, come li chiamo, i saltimbanco, oppure come si chiamano quegli animali che saltellano? Beh, adesso non mi viene il nome. Queste persone qua. È meglio perderle che trovarle. Ok? Perché, ripeto, il mio tempo lo dedico agli studi dei numeri, ma se devo stare qui a perdere tempo preferisco dedicare il mio tempo alla mia famiglia e non a persone che vogliono solo usufruire del mio tempo per capire cosa faccio e cosa non faccio, qual è il mio studio, qual è il metodo, quale c'è. Ragazzi, andate dai professionisti, vi spiegheranno tutti i metodi come funzionano. Io non sto qui a spiegarvi i metodi. Con me, se volete, i miei metodi ciclometrici io non li regalo perché andrebbero in mani dove poi si manterebbero che l'hanno inventato loro, allora preferisco tenermeli con me, dare le previsioni e far vincere i miei abbonati. Io vi lascio alla visione di un po' di scontrini e chi è interessato mi contatta al mio numero Whatsapp. Buona domenica a tutti a tutti i miei abbonati. a tutti i miei abbonati. a tutti i miei abbonati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.